ben ritrovati di nuovo su review vado a recensire con voi queste cartucce a salve per pistola 8 mm fiocchi marca italiana alcuni la criticano altri dicono che è meglio di altre cartucce io devo dire che andandole a provare quindi questo è già il secondo pacco d'ordino non mi posso lamentare il colpo è bello potente marca italiana andiamo a vedere insieme contenuto sono 50 cartucce e vi lascio il link in descrizione di amazon perché io sono andato a pagarle sui 6 euro al posto di 11 quindi un bel prezzo scontato ecco qua quindi sono fatte così all'interno della polvere da sparo quando il colpo viene esploso qua si apre praticamente sono di colore esterno argentato 50 ripeto il colpo è simile a quello vero una bella botta e niente devo dire che sono quindi soddisfatto link in descrizione se avete qualche domanda non esitate a pormela